Si è rimesso in movimento il processo per la progettazione e la futura realizzazione del tratto aretino della Due Mari. Lo conferma l'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli che ha promosso nella sede del Genio Civile di Arezzo un vertice tra ANAS, gli enti locali aretini, la Camera di Commercio, le rappresentanze economiche e sindacali per presentare lo stato di avanzamento della progettazione. Sembra che questa sia la volta buona, ha detto Ceccarelli, finalmente con un finanziamento di quasi 8 milioni di euro per la progettazione. Sembra sbloccarsi il nodo aretino così che nel 2022 dovremo vedere partire i lavori per questo tratto della Due Mari. ANAS, ha detto Ceccarelli, ha individuato l'agenzia che si occuperà della progettazione di questo tratto, diviso in due lotti, che avrà un valore complessivo di 500 milioni. Il precedente governo ha previsto per quest'opera l'appaltabilità dal 2022 e ora che ci sono le risorse per la progettazione, ANAS si sta muovendo per rispettare la scadenza. Si tratta di un progetto complesso, precisa l'assessore, che si avvale di un tracciato già stato individuato dalla provincia di Arezzo nel 2005, un tracciato che aveva già avuto la via, seppur con alcune prescrizioni. Questo è un elemento prezioso perché avere già le autorizzazioni ambientali permetterà ad ANAS di procedere subito con lo sviluppo progettuale. Ci è stato illustrato tutto il tracciato da Grosseto a Fano, conclude Ceccarelli, ma in particolare i tratti del nodo aretino e il collegamento con l'Ai45. Mi è sembrato opportuno che questo aggiornamento progettuale fosse condiviso con le istituzioni e le associazioni di categoria, in particolare con la Camera di Commercio, che a suo tempo cofinanziò con la provincia il progetto di tracciato che infine è stato scelto.